Se hai un e-commerce e stai pensando di fare delle attività speciali per il Black Friday, questo è l'episodio che fa per te. Perché oggi ti faccio vedere 7 strategie, 7 cose che devi fare nei prossimi giorni per sfruttare bene questo Black Friday. Il primo suggerimento è che il Black Friday è una strategia, non un giorno di venta, non un giorno di offerte e basta. Cosa voglio dire? Voglio dire che non puoi pensare di concentrarti solo su quella singola giornata, quindi su quel venerdì o quel weekend nel quale vuoi fare degli sconti, ma devi iniziare a strutturarlo bene diverse settimane prima, diversi giorni prima. Che significa? Significa immaginare la strategia che c'è dietro a questo Black Friday, quali promozioni vuoi fare, preparare le campagne, preparare i funnel, gli automatismi, le creatività, i copy e così via. Avere una strategia chiara prima di scendere poi concretamente all'interno della parte operativa, le tattiche. Quindi non è metto queste cose in sconto, ma creo una strategia alla base di quello che è il Black Friday. Il secondo suggerimento che ti voglio dare è quello di premiare i tuoi clienti storici. Perché dico questa cosa? Perché per molti il Black Friday è un'occasione per portare dentro nuovi clienti, ed è così, è sacrosanto questa cosa ovviamente importante, ma non ti dimenticare con chi è con te da un sacco di tempo. Quindi le persone che comprano i tuoi prodotti da parecchio tempo e sono dei clienti fedeli vanno premiati. Non puoi abbandonarli proprio in quel giorno. Non c'è cosa più terribile che vedere gli sconti fatti a qualcun altro, io che sono un cliente storico invece abbandonato. Ad esempio potresti dare in anteprima dei deal, quindi delle offerte che si sbloccano prima per chi è già cliente, qualche giorno in anticipo, e poi si aprono il giorno del Black Friday. Il terzo consiglio che ti voglio dare è coinvolgi gli influencer. Mi hai sentito parlare spesso qui sopra dell'importanza del social selling, e quindi la vendita che avviene attraverso i social media. Ecco, in questo trend che è grandissimo e che cresce sempre di più, gli influencer hanno un ruolo fondamentale. E quindi non puoi non coinvolgerli nelle tue vendite, e in particolar modo durante il Black Friday. Ovviamente anche questo pianificato per bene, ok? Perché con l'influencer marketing si possono fare tante cose belle, ma anche tante cose pessime se non lo pianifichi bene. Prima di andare avanti voglio ricordarti che questo è un episodio speciale in collaborazione con Shopify. Con Shopify ormai sono due anni che facciamo questa serie di video, dove trovi una bellissima playlist sul mio canale YouTube, dedicata al mondo dell'e-commerce. Quindi oltre al video di oggi troverai tanti tanti contenuti, sia per chi inizia che per chi ha più esperienza. Vuoi provare Shopify gratis andando al link che ti lascio qui sotto in descrizione, gaito.link.shopify, lo puoi provare per due settimane, così prima di decidere se è lo strumento giusto che fa per te, gli dai un'occhiatina, smanetti un po' e poi procedi. Il consiglio numero quattro che ti voglio dare è quello di provare delle piattaforme nuove, diciamo non convenzionali, cose che per te sono una novità, e quindi è importante certo andare su Instagram, andare su Facebook, fare pubblicità su Google e così via, ma lì fuori c'è un mondo di piattaforme che potrebbe essere interessante per il tuo business, dove potrebbe esserci dei tuoi clienti. Qualche esempio? Snapchat, TikTok, Pinterest, Twitch e così via. Puoi provare sia ad andarci con dei contenuti, sia a fare pubblicità. E questi sono solo degli esempi, ne hai tantissimi, quindi o sfrutta questo occasione anche per uscire dalla tua zona di comfort del marketing e testare qualcosa di nuovo. Il quinto suggerimento che ti voglio dare è Customer Care. Customer Care. Customer Care. È la cosa più importante di questo mondo. Ti prego, non concentrarti solo sulle vendite quel giorno. Molto probabilmente ci sarà un boom, avrai un'esplosione, un picco di vendite rispetto agli altri giorni dell'anno e proprio in quel periodo ti devi concentrare sull'assistenza ai clienti. Non far sentire le persone abbandonate. E questa è una cosa che capita spessissimo quando ci sono questi giorni tipo Natale, Black Friday e così via, dove ci sono tantissimi acquisti, un sacco di persone si riversano sull'e-commerce. Ecco, proprio perché c'è più attenzione verso il tuo brand e verso il tuo prodotto, alza ancora un po' di più l'asticella, alza la qualità e stai vicino alle persone, con i rimborsi, con la risposta alle mail, chiarendo i loro dubbi, offrendo delle soluzioni ai loro problemi e così via. È importantissimo. Prima di andare avanti, ricorda di iscriverti al mio canale YouTube e attivare la campanella per non perderti i prossimi video e seguirmi su Instagram, che è il social dove mostro un pochino il dietro le quinte e ci sono dei contenuti esclusivi che non escono da nessun'altra parte. Il sesto suggerimento invece è sul post Black Friday. Quindi nel primo suggerimento ho detto è importante fare attenzione a quello che avviene prima, in questo suggerimento ti voglio dire è importante quello che succede dopo. E quindi mi collego anche al customer care che dicevo nel punto precedente. Se tu porti a casa dei nuovi clienti, quindi hai delle nuove persone, dei nuovi contatti e così via, sappi che questo è un ottimo momento per creare delle relazioni, delle relazioni magari longeve, basate sulla fiducia, su un rapporto di qualità e sono persone che potrebbero comprare i tuoi prodotti e i tuoi servizi anche altre volte durante l'anno. Quindi ricorda che quel giorno, il Black Friday, può essere l'inizio di qualcosa di importante, l'inizio di qualcosa di molto più lungo e di un rapporto di fiducia con i tuoi futuri clienti. Il settimo e ultimo consiglio, te lo dico molto diretto, non prendere in giro la gente. Il Black Friday, ma così come tanti giorni nei quali ci sono i saldi, si usa spesso fare il finto sconto, no? Quindi questa cosa costa 10, ma in realtà vado sul sito e dico che costava 30, poi lo cancello e dico di solito costa 30, ma solo oggi costa 10. E questo lo fanno non solo i negozi fisici, che ci hanno abituato malissimo a questa cosa, ma ogni tanto lo vedo fare anche negli e-commerce. Ti prego, ti prego, ti prego, non prendere in giro le persone. Non lo fare, innanzitutto perché le persone ti sgamano dopo 10 secondi, perché quello è il modo peggiore di trattare i tuoi clienti, è il modo peggiore di iniziare una relazione con qualcuno, una relazione basata sulla fiducia, lo ripeto, proprio in quel giorno speciale. Quindi mi raccomando, trattali bene anche durante il Black Friday. Ovviamente questi sono consigli per chi ha già un e-commerce, ed è già partito quindi a vendere online. Se invece a te manca il pezzettino prima, e quindi non hai ancora messo un e-commerce, quello che ti consiglio di fare è di recuperare questo tutorial, che trovi sul mio canale YouTube, dove spiego in maniera pratica in che modo iniziare a vendere grazie a Shopify.